A numero 6, Deglia Valentini! È di Civitavecchia la nuova Miss Ladispoli, eletta ieri sera in piazza Rossellini. A 17 anni si chiama Deglia Valentini e studia al liceo. È stata una bellissima emozione, è sempre bello stare qua e soprattutto con i miei genitori sotto al palco. Grazie mille della serata. Ti aspettavi di vincere? No, non me l'aspettavo, però è comunque bellissimo. Per i maschi ha vinto Jonathan Indaco, ma la serata ha visto anche le fasce per Miss Over 40 e Miss Curvy. L'associazione Tamà che ha ideato il concorso ha compiuto 20 anni e porta avanti con tanti sacrifici questo evento. È stata una manifestazione veramente importante, bella, piena di tantissimi ospiti, sono contenta. Il pubblico è rimasto a vederci fino alla fine e sono soddisfatta di tutte le attività dell'associazione. Una serata con ospiti e voci importanti della musica. Sicuramente dopo il 2021 che ho vinto il Together Now su Canale 5 con Michelle Hunziker, le cose sono tornate ancora ad essere fiorenti per me, ma non posso lamentarmi perché giro anche intorno al mondo con i Rhapsody of Fire, poi ne ha fatto un tour in America, uno in Europa, sta andando bene. Una manifestazione che ha tutte le carte regola per essere considerato un main event estivo. Siamo contenti di supportarla e la risposta della gente è sempre un gran risultato con lei. Io alle ragazze le curo molto, nel senso che sono sempre molto vicine a loro, diamo tante opportunità anche di fare delle attività riguardanti appunto la moda, lo spettacolo e il cinema.